Va bene, riprendiamo i lavori dopo questa breve pausa e siamo onorati ed emozionati di poter ospitare il presidente della Fondazione Leonardo, Civiltà delle Macchine, ma anche da ieri presidente di Multiversity che riunisce le università telematiche, Pegaso, Mercatorum, San Raffaele e mi sono domandata come presentare il presidente Violante ai giovani che sono qui in questa splendida biblioteca e ho preso le poche parole che il presidente Violante ha utilizzato nel sito della Fondazione Leonardo per presentarsi. Pensate che la sua pagina Wikipedia è molto lunga, ma lui ha scelto poche righe che vi leggo e mi perdonerà se sono così breve, ma sono le parole con cui lui si presenta. È stato magistrato, professore ordinario di diritto e procedura penale, parlamentare dal 1979 al 2008. In Parlamento ha ricoperto le funzioni di presidente della Commissione Antimafia dal 1992 al 1994, presidente della Camera dei Deputati dal 1996 al 2001, è autore di autori di diversi libri di diritto penale, di temi politici e costituzionali e io vi ricordo questo libro che è uscito proprio nel 2023 e che è veramente stimolante. La democrazia non è gratis ed è presidente onorario di Italia Decide e dal gennaio 19 preside la Fondazione Leonardo. Forse a voi il titolo Civiltà delle Macchine non dirà molto, ma per chi ha studiato la letteratura del Novecento è stata una rivista rivoluzionaria e che festeggia quest'anno i 70 anni. La volle un ingegnere letterato, Leonardo Sinis Galli, che convince Ungaretti, Moravia, Enzo Paci, Gian Siro Ferrata e Carlo Emilio Gadda a scrivere su un bimestrale di tecnica, letteratura e modernità. Io gli lascio la parola, grazie di essere qui con noi e buon ascolto a tutti per questa lezione magistralis. Grazie. Grazie. Posso aggiungere che il fondo del primo numero lo scrisse Ungaretti, sulla civiltà delle macchine? Sì, sì. Per chi come me ama Carlo Emilio Gadda, Gadda scrisse una lettera a Sinis Galli dove disse proprio la macchina non è altra cosa nel mondo che una estensione dell'operare dell'umano al di fuori delle possibilità biologiche dell'uomo. Credo che questa sia una frase che la può trovare consensiente. Grazie. Dunque, il Fondazione dell'Ado si occupa di molte cose della modernità che vanno dai fondali marine allo spazio, al metaverso e così via. E per quanto riguarda il digitale, ne usiamo dal 2019 l'indirizzo umanesimo digitale. Lo dico perché ho sentito l'intervento che mi ha preceduto, che era molto attento su questo. L'intervento che faccio oggi ha lo scopo di presentare un progetto di pedagogia digitale della Fondazione Leonardo, destinato in particolare ai bambini delle elementari, agli insegnanti e alle famiglie. Il progetto vede come partere il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la Fondazione San Paolo, l'Autorità per la Cyber Security, i Garanti della Privacy, docenti della Faculta di Ingegneria e Filosofia della Sapienza di Roma, la Catera del Diritto Costituzionale dell'Università di Firenze. Svolgerò prima alcune brevi tesi per individuare la natura dei problemi di fronte ai quali ci troviamo e le conseguenze che ne derivano. L'intelligenza artificiale, come tutte le grandi innovazioni, pone questioni economiche, politiche e antropologiche. Dal punto di vista economico si sta prefigurando una nuova fase della industrializzazione e il trattamento ad alta frequenza di miliardi di informazioni che modificano profondamente l'apparato produttivo e l'organizzazione del lavoro. Il 90% dei dati mondiali è stato prodotto solo negli ultimi due anni. Secondo l'Ocse, lo scambio dei dati toccherà tra solo i due anni, nel 2025, 11 trilioni di dollari. Quando sono in gioco queste dimensioni finanziarie, vi prego di sottolineare il punto, si pone inevitabilmente un nuovo problema di libertà. Dal punto di vista politico, circa 5 miliardi di persone nel mondo sono oggi connessi a internet. Più di 4 miliardi sono attive sui social, 3 miliardi sono gli utenti giornalieri delle piattaforme di gaming, di gioco. È la più vasta comunità nella storia dell'uomo che vive immersa in un ambiente che ha caratteristiche particolari. L'ambiente digitale, il cyber space, non è territoriale, è metaterritoriale, non è né pubblico né privato, può coprire il territorio di tutti gli stati del mondo, ma sfugge a ciascuno di loro. Sintetizzo, la rete non è un mezzo, è un ambiente nel quale sono connesse tra loro circa 5 miliardi di persone senza essere condizionate dal luogo o dal tempo. La rete serve per tutto, dalla difesa, alla propaganda, alla manipolazione, alla logistica, alla informazione, alla ricerca. Tutte le nostre vite sono digitalizzate, noi in questo momento, con enormi vantaggi e qualche rischio. Dobbiamo considerare il cyber space, insieme alla Terra, al mare, allo spazio, il quarto ambiente dell'umanità, essenziale, come tutti gli altri, per la nostra sopravvivenza. Dobbiamo creare culture, pedagogie, abitudini che ci mettono in grado di utilizzare senza essere utilizzati. Qui si pone il problema delle nuove libertà, i problemi classici della libertà da 700 in poi si risolvevano nel conflitto con il sovrano, con le sue leggi, i suoi giudici e le sue polizie. Ma i nuovi sovrani non hanno un nome e un indirizzo, non hanno leggi, né giudici, né polizia, sono padroni di tecnologie che la maggior parte dell'umanità non conosce, il cui funzionamento non è conosciuto, ci forniscono servizi essenziali senza dei quali non potremmo vivere, ma il digitale ci pone in fronte a rischi per quattro dimensioni della libertà. Sottolineo, libertà che sono nel cuore della modernità, la libertà di autodeterminazione, la libertà di scelta, la libertà del rifiuto, la libertà nello spazio pubblico di costruire attraverso il libero contraddittorio, senza vincoli e condizionamenti, le proprie opinioni. Ora passo a leggere cinque brevi tesi. Tesi prima. La società analogica si reggeva attraverso comunità responsabili, tenute insieme dalle reti dei corpi intermedi, partito, associazione, chiesa, famiglia, sindacato, che si presentavano come tali sulla scena pubblica, erano scalabili, avevano statuti conoscibili e costituivano comunità responsabili. I corpi intermedi sono in difficoltà dagli anni Ottanta, quando, dopo il crollo del sistema sovietico, la globalizzazione finanziaria ha pervaso il mondo, con il suo carico di fantomazione sociale, individualismo di desideri autoproduttivi tutti privi di responsabilità, ma con una particolare capacità di mobilitazione attorno a opinioni anche false, purché condivise. I corpi intermedi avevano bisogno di comunità umane, mentre le comunità digitali sono somme di solitudini collettive, solitudini di massa prive di responsabilità individuali, che si aprono e si chiudono, come i voli degli stormi. Si è aperto un vuoto. Nella Cyber Society è in corso la sostituzione dei vecchi mediatori. Le funzioni dei vecchi corpi intermedi sono oggi svolte dalle piattaforme dell'intelligenza artificiale. Allora, amici, non è in corso una disintermediazione, è in corso una reintermediazione. Microsoft, Amazon, Google ci danno a costi accettabili e con efficienza i servizi che sono diventati indispensabili. In cambio, consegniamo ogni giorno a loro gratuitamente e responsabilmente tutti i nostri dati. Se gli stessi dati ci vensero chiesti dall'autorità pubblica, partirebbero cortei, manifesti e campagne di stampa. Ma non parte nulla. I nuovi mediatori orientano la nostra vita quotidiana in misura maggiore rispetto ai mediatori tradizionali. conoscevo l'indirizzo, il numero di telefono, i dirigenti, gli addetti del mio partito, del mio sindacato, nella mia parrocchia. Potevo mettere in discussione l'indirizzo del partito del sindacato, potevo candidarmi a loro posto. Invece non ho l'indirizzo, il numero di Amazon, ne posso scalarla. I vecchi mediatori non costituivano oligopoli. I nuovi lo sono. Microsoft, Google, Amazon controllano il 64% del mercato cloud infrastrutturale. Microsoft ha circa il 90% le esistime operative per server e PC e gestisce Office che è il pacchetto software più diffuso al mondo. Il 92% delle nostre caselle e posto elettroniche esistono Microsoft, Apple, Google. Sempre per definire il peso delle compagnie digitali, ricordo che nel 1990 le prime cinque imprese USA in termini di capitalizzazione erano IBM, Exxon, General Electric, AT&T, Fairmore. Nel 2020 erano Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook. Tutte aziende del digitale. Nello stesso anno, inoltre, ciascuna delle cinque maggiori compagnie tecnologiche varia più delle 76 maggiori società energetiche messe insieme. Volevo avvisarvi che oggi ho letto su alcuni quotidiani che l'antitrust americano sta svolgendo un'azione contro Amazon per posizione prevalente. Gli oligopolisti hanno in loro mani persone, imprese e stati. Se girassero l'interruttore, il mondo si fermerebbe. I flussi di pensiero pilotati attraverso i social media contano più della intelligenza individuale. Chi governa l'ambiente digitale ha la possibilità di decidere non solo cosa compriamo, ma cosa pensiamo e come ci orientiamo nel mondo. Di qui la necessità di mantenere e difendere le libertà intellettuali nei confronti del flusso di informazione e dei condizionamenti. Tesi numero tre. L'ambiente digitale sta trasformando la nostra antropologia. Da 2006, data della messa in commercio del primo iPhone, le forme della comunicazione, dell'informazione, del gioco e dell'apprendimento sono cambiate. È cambiato il rapporto tra mente, corpo, cultura, natura e società. Sta sorgendo un nuovo modo di essere persona umana, una nuova antropologia. Alcuni parlano di Sapiens 2.0. sono i nativi digitali, ma alla tipologia appartengono anche gli analogici immigrati, nativi analogici che si sono convertiti all'uso parossistico del digitale. I nativi digitali e gli analogici immigrati hanno tempi brevi di attenzione, compulsano freneticamente le phone, non parlano ma trasmettono messaggi. Nella ingenua convinzione di essere più libero, questo tipo di Sapiens attenti, smaterializza le relazioni sociali. Il processo di smaterializzazione delle relazioni sociali già da tempo avviato tra le tue social è incrementato dal metaverso con una differenza. Mentre l'utente del social resta nel mondo materiale, l'utente del metaverso si sposta nel mondo immateriale, tridimensionale, creato dalla piattaforma. Forse voi ricorderete o alcuni di voi ricorderanno che nel 2000 Giovanni Sartori pubblicò Homo Videns. A causa della televisione, sotteneva Sartori, per la prima volta nella storia l'immagine prevale sulla parola, mutando tanto la comunicazione quanto i meccanismi di comprensione tra gli esseri umani. Il predominio dell'immagine sulla parola, continuava lo studioso, avrebbe minato il cosiddetto pensiero astratto dell'attività simbolica propria dell'essere umano. Si sarebbe ridotta così la capacità di distinguere l'apparente dal reale e il vero dal falso. L'Homo Videns, dice Sartori, diventa sempre più incapace di formarsi in un'opinione propria e riduce la propria libertà. Una recente evoluzione dell'Homo Videns, a mio avviso, e non sorridete, è l'Homo Filmans, che attraverso le forme filma tutto, l'abbraccio con una personalità, un monumento, una scena che attrava l'attenzione e se stesso in un determinato posto con un animale. Mentre l'Homo Videns è fermo seduto in potrone davanti a uno schermo, l'Homo Filmans invece è solo, non condivide con nessuno il proprio schermo e non può fermarsi. Si muove perché deve documentare se stesso, la propria mobilità, la propria capacità di riservazione, la varietà e l'interesse dei luoghi nei quali si trova e delle persone che incontra. Nella sua coscienza rende eterno quell'attimo. L'Homo Filmans è un narcisista, filma per attirare l'attenzione che riceverà, che riceveranno le immagini e filma se stesso in quanto protagonista di un evento ed è perciò costretto a stupire. Quindi il Filmans si assiste ad un incidente e non soccorre il ferito, lo filma perché essere presente è più importante che soccorrere. forse voi sapete che recentemente un tribunale ha imputato di omissione di soccorso una persona che avendo visto un'automobilista che bruciava in macchina l'ho fotografato mentre bruciava ma l'ho salvato. Tese numero 4 la società digitale ricorre all'uso intensivo quasi palossistico della rete per condividere informazioni dati e contenuti sono possibili l'onimato identità contraffatta identità multiple e così via. L'onimato permette di discriminare attraverso il linguaggio d'odio spesso con caratteri identitari sino alla costituzione di comunità odianti che si caratterizzano per azioni di denigrazione e di aggressione sia l'orinciaggio digitale però c'è un'altra faccia della medaglia l'onimato permette a persone meno strutturate con identità più fragili di essere ugualmente presenti sulla scena pubblica portando il loro contributo positivo al dialogo sociale. Il sistema deve poter espungere i primi tutelando l'espressività dei secondi senza scivolare nello stato etico dei robot. L'obiettivo questo è il nostro obiettivo è la costruzione del nostro di tutti quanti noi in una civiltà del digitale capace di dare a ciascuno la piena consapevolezza delle possibilità dei limiti e dei rischi. Con questa espressione si comprende il compresso degli aspetti culturali e sociali prodotti e condizionati nella società dall'intelligenza artificiale. Civiltà digitale vuol dire condizione umana caratterizzata dall'autonomia dell'individuo nell'ambiente digitale e dal domino dell'uomo sulla tecnica digitale. la costruzione dell'autonomia e del dominio della persona sull'algoritmo è l'obiettivo da porsi nel presente per poter essere libri nel futuro. Tesi numero 5 Lo sviluppo del digitale porta con sé nuove inerite possibilità di sviluppo per essere umano ma al contempo un aumento nel numero e nell'intensità dei pericoli per la sicurezza dei cittadini soprattutto dei minori che sono i più esposti e perché più provveduti sempre più connessi sempre più giovani sempre più a lungo online al limite della dipendenza con disturbi da deficit dell'attenzione il gaming disorder il disordine da uso della piattaforma per gioco è stato inserito dall'OMS nel manuale internazionale di classificazione delle malattie cyberbullismo e pedopornografia sono solo alcuni dei lati oscuri della vita online tra l'altro nel lavoro che stiamo facendo in fondazione intervistando centinaia di adolescenti circa 800 sinora provenienti da tutte le regioni italiane abbiamo portato a due fenomeni nuovi che non so se conoscete il primo è la trasposizione di comportamenti dal metaverso al reale il ragazzo non distingue più tra questa immaginazione quindi tende a riprodurre nella vita reale quello che è vedere il metaverso lo stupro la violenza e così via con comportamenti irresponsabili che sono la proiezione della vita reale di ciò che avviene nel reale immateriale in questi casi il ragazzo non distingue tra finzione e realtà questo è un problema pedagogico il secondo aspetto riguarda le fonti di legittimazione dei comportamenti degli adolescenti che fanno parte delle comunità digitali la legittimazione non viene in loro né dalla famiglia né dalla scuola ma dal gruppo di cui fanno parte essere accettati dal gruppo e quindi tenere comportamenti che rendono apprezzati è indispensabile per risalire le gerarchie e quindi diventa inevitabile una spinta all'eccesso per imparare a vivere da protagonisti in questo nuovo ambiente e a combattere la propagazione dei virus che minano la convivenza civile occorre partire questa è la nostra tesi sin dalla scuola primaria dall'educazione che supporti il cittadino nella formazione della consapevolezza civica e digitale capaci di affrontare le sfide una nuova pedagogia digitale sistemica e preventiva non si limita all'informazione sulla innovazione tecnologica e sulle minacce ma pone anche le condizioni per le quali gli studenti siano in grado di riconoscere e affrontare minacce future attraverso un costante esercizio etico-intellettuale insomma permettetemi io mi occupo di regole di diritto da più di 60 anni le regole non servono a niente i divieti non servono se vede la pedagogia se vede l'insegnamento se vede la persuasione il progetto di pedagogia digitale a Fondazione Leonardo affronta il tema della tutela delle persone più giovani nei nuovi contesti di vita digitale laddove la cyber security si occupa della sicurezza delle macchine e dei sistemi informatici noi parliamo di cyber safety che mira a proteggere l'essere umano abbiamo perciò presentato l'ultimo passaggio al ministro di risoluzione del merito all'agenzia per la cyber sicurezza nazionale all'ACRI associazione di fondi delle casse di risparmio alla fondazione SERIX alla fondazione San Paolo un progetto per attivare una serie di corsi di confronto e aggiornamento ad alto livello rivolti a dirigenti scolastici e docenti di tutti gli istituti statali e paritari istituzioni primarie secondarie e primo grado con il coinvolgimento diretto in alcune fasi dei loro studenti e anche insegnanti e se possibile dei genitori perché qui c'è un problema dei genitori gli stessi genitori ignorano i rischi che si corrono e qualche volta per liberarsi del ragazzino gli hanno il telefono in mano senza che il ragazzo sia preparato all'uso il progetto si articola in due anni il primo anno sarà dedicato alla scuola primaria del primo grado il secondo anno alla scuola secondaria del primo grado partirà dal 2024 al 2025 questo è un anno di sperimentazione si prefigge di promuovere un confronto tra personalità esperte e il mondo della scuola per meglio rispondere alla diffusa domanda di educazione digitale di offrire alla scuola italiana un primo esempio di formazione digitale rivolta all'istruzione primaria del primo grado di attivare vere e proprie catene di formazione dagli esperti e docenti corsisti a colleghi delle scuole di provenienza e di realizzare progetti educativi anche sotto il profilo della forma eventibili seminari webinar e esperienze di realtà immersiva se forse interessato a saperne di più e finisco posso chiedere ai ricercatori che stanno lavorando sul tema di venire da voi per illustrare spiegare e mostrare il lavoro in corso se poi voleste dare anche il vostro contributo per la vostra dottorevolezza scientifica non potremmo che essere felici ho terminato ho terminato avete sentito? questo applauso che continua dice a tutti dell'importanza delle parole che lei ha usato e della quale veramente la ringraziamo questo incontro è stato esteso agli insegnanti agli studenti delle scuole superiori ai nostri studenti della laurea triennale ai nostri studenti della laurea magistrale ai dottorandi agli assegnisti ai colleghi e veramente la sua impostazione del problema dei rapporti dell'individuo col mondo digitale coinvolge una pedagogia che ci coinvolge tutti e io la ringrazio davvero non solo per la lucidità con cui ci ha presentato l'importanza di questi problemi ma per la passione che ha messo nel presentarla passione in cui io sento la storia che lei ha attraversato e nella quale ha reso le istituzioni che a volte ci sembrano così lontane invece qualche cosa di molto vicino qualche cosa che guida e che è un punto di riferimento per costruire una autonomia una autodeterminazione ci sono dei punti della sua analisi così acuta che mi hanno molto colpito e che riprendo rapidissimamente anche perché lei è riuscito non solo a entusiasmarci ma stare nei tempi nonostante fossimo in terribile ritardo quindi non voglio abusare del suo tempo e anche del tempo di chi è qui ma ci sono tre punti che mi hanno colpito il tema della solitudine di questo homo filmans solo isolato in un ambiente invece che dovrebbe essere quello della collaborazione la filologia che è la materia che io insegno in questo corso ha innovato le edizioni introducendo le edizioni collaborative e questa mattina abbiamo parlato proprio di progetti di progetti digitali e anche progetti legati ai musei ai beni culturali in cui il cittadino non è solo spettatore ma creatore di contenuti quindi la solitudine che lei ha messo in esame è l'esatto contrario di quello che l'ambiente digitale promuoverebbe e che invece ci dovrebbe spingere a una vita di relazione il secondo punto che mi ha colpito è quello del riconoscimento dei soli diritti e non dei doveri che porta alla fine a quelle camere che vengono chiamate camera ICO e cioè quegli ambienti in cui chi si informa apprende notizie solo dal suo gruppo e quindi non riesce a essere educato al confronto alla dialettica che invece un tempo infiammava i dibattiti a tutti i livelli in tutti gli ambienti che lei ha menzionato proprio come i corpi intermedi un termine un po' strano soprattutto lo immagino per gli studenti che ci ascoltano ma che invece poi lei ha fatto capire che sono quegli ambienti in cui una generazione diversa da quella dei giovani viveva gli oratori le palestre le scuole di partito che esistevano le scuole stesse i sindacati i corpi intermedi erano un luogo di dibattito invece ora c'è odio e non rispetto il rispetto credo che sia una parola chiave della sua relazione e l'ultimo tema che vorrei sottolineare è quello della de-responsabilizzazione questo è importantissimo questa citazione questo caso di cittadino condannato perché ha filmato invece di prestare soccorso vuole dire che ci stiamo avviando verso una de-responsabilizzazione un non sentirci parte di una collettività e invece la responsabilità che dovremmo sottolineare quindi mi ricordo un po' di tempo fa che venne presentata la cultura digitale come la cultura delle tre i alla quale invece non le ricordo perché per fortuna le abbiamo dimenticate e invece io vorrei prendere spunto dalle sue parole chiave per portare tre R relazione rispetto e responsabilità e mi sembra davvero che la pedagogia del digitale ci coinvolga tutti e spinga quello che ho trovato in un suo testo che mi ha molto colpito che non dobbiamo essere condizionati dalla civiltà digitale ma dobbiamo accentuare il peso del sostantivo civiltà e non dell'aggettivo per portare a una condizione dell'uomo cito le sue parole che però tutti possono trovare ed è anche questo il bello del digitale dal telefono potete andare a leggerle nel sito di civiltadellemacchine punto it che io ho letto sui faldoni delle biblioteche quando studiavo gli articoli dei nostri letterati ma che invece i nostri giovani possono leggere dal telefono e possono leggere queste sue parole per dare una caratterizzazione dell'autonomia dell'individuo nell'ambiente digitale e del dominio dell'uomo sulla tecnica digitale e lei continua la costruzione dell'autonomia e del dominio della persona sull'algoritmo che è l'obiettivo da porsi nel presente per poter essere liberi nel futuro queste sue parole credo veramente che come lo sono state per me siano di ispirazione con quelle che ha detto oggi per tutti quelli che oggi hanno assistito alla sua lezione e la ringrazio veramente proprio personalmente ma anche a nome credo di tutti quelli che sono qui presenti grazie professore se volevo dire se poi vi interessa approfondire questo modello e poi posso posso non dire i ricercatori stanno lavorando per illustrare noi li abbiamo già invitati però invitiamo anche lei per cui noi volentieri accogliamo i ricercatori anche perché il nostro lavoro come avrà visto si svolge costantemente nella didattica noi stiamo proprio integrati con non solo la nostra vocazione di formatori ma anche di ispiratori se vogliamo per gli insegnanti io penso sempre che sta entrando nel mondo della scuola una nuova generazione di insegnanti molti di questi li ho laureati pochi anni fa e questi insegnanti si sono già formati nell'ambiente digitale quindi è a questi nuovi insegnanti che le sue parole secondo me saranno sicuramente di ispirazione noi l'abbiamo già invitata presidente ecco questo lo sapevo me lo diranno va bene bene grazie a tutti buona continuazione dei vostri lavori e grazie per l'invito che mi avete fatto grazie ancora grazie il nostro applauso più sentito grazie arrivederci grazie 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 grazie